Anche con l'inizio delle nuove edizioni di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, la sopa opera turca My On My Destiny trova un suo posto nel daytime di Canale 5, pur slittando la programmazione alle 16.40. Leggiamo le trame degli episodi in onda dal lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2024. My On My Destiny, le anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024. Quando Oslem si trova faccia a faccia con Zeynep e viene a conoscenza della sua situazione familiare, complicata e fuori dai normali schemi, la sua reazione è di rabbia furiosa. Non accetta la realtà che le si presenta davanti e fatica a contenere il proprio disappunto. Zeynep, nonostante sia sempre più vicina a Baris e coltivi con lui un legame profondo, continua a mantenere segreto il suo coinvolgimento nel caso di Mehdi. In questa sua operazione nascosta, agisce sotto traccia, contando sulla complicità di Savas, che le offre il suo supporto. I due collaborano segretamente, evitando che Baris scopra la verità. Nuh fa una scoperta che lo turba profondamente. La figlia di Bekira ha urgente bisogno di un'operazione costosa, e questo potrebbe essere il motivo per cui Bekira ha deciso di tradire Mehdi. Spinto dalla necessità economica e dall'offerta di aiuto finanziario promesso da Veisi, Bekira ceduto, accettando di voltare le spalle a Mehdi per salvare la vita di sua figlia. Zeynep, in un'azione audace, si traveste da infermiera per riuscire a entrare nella stanza d'ospedale di Bekir. Con grande abilità e determinazione, riesce a convincerlo a testimoniare, offrendogli in cambio il denaro necessario per l'intervento chirurgico della bambina. La sua determinazione e il suo coraggio sono ammirevoli, ma non tutti sono d'accordo con le sue scelte. La sua amica Emine non condivide il suo comportamento e la sua decisione di prendere parte al caso di Mehdi. Questa divergenza di opinioni porta a un confronto acceso tra le due, con Emine che rimprovera duramente Zeynep per il suo coinvolgimento. Sultan è coinvolta in un incidente che, all'apparenza, sembra essere di poco conto. Le sue conseguenze si amplificano quando Nermin le fa un regalo molto costoso, una borsa di lusso. Questo gesto, che inizialmente voleva essere un simbolo di affetto, scatena inaspettatamente la gelosia di Oslem che, incapace di accettare che Sultan possa ricevere un regalo così prezioso, l'accusa ingiustamente di aver rubato del denaro dalla casa. Dove vedere My On My Destiny in TV e in streaming. Le nuove puntate della SOP My On My Destiny vanno in onda su Canale 5 da lunedì 14 a venerdì 18 settembre 2024 a partire dalle 16.40. Gli episodi della SOP sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.